Niente ragazzi, adesso ci sistemiamo qua, riposiamo un pochino se ci riusciamo, però prima di darvi la buona notte vorremmo farvi notare una cosa che abbiamo notato noi, che non c'è nessuna immagine di Steve Jobs, come invece sembra esserci in altri Apple Store dove hanno lasciato comunque fiori, mele mozzicate e anche gigantografie della sua del suo volto, qui è tutto molto pulito, sembra quasi dimenticato l'evento che è successo e ci dispiace molto perché comunque è una cosa che ci saremmo aspettati di trovare, una gigantografia magari laterale qui all'entrata, invece non c'è nulla, Steve Jobs questo è poi tra l'altro l'ultimo Apple Store aperto da Apple e non a caso il più prestigioso come location, anche come architettura e anche il più grande nel mondo, quindi è un peccato che proprio qui non ci sia un, non lo so, io avrei messo la sua foto questa famosa che c'è anche nell'home page del sito e non c'è nulla, forse apparirà domani, vediamo, ci dispiace, comunque buonanotte, a domani